Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Un'area di bassa pressione tra i Balcani e l'Adriatico per la giornata di martedì apporta ancora dell'instabilità al sud, mentre l'anticiclone delle Azzorre è protagonista su gran parte del centro nord. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla grafica per quanto riguarda la nuvolosità che sarà presente soprattutto sulle regioni meridionali. Infatti proprio qui avremo gran parte dei fenomeni che si concentreranno soprattutto sul basso versante tirrenico e anche sull'Appennino meridionale, mentre vedete il resto dell'Italia sarà praticamente sgombra da nubi e anche da precipitazioni se non qualcosina localmente al centro. In definitiva ci attene una giornata di martedì caratterizzata da ampi spazi assolati al nord Italia e su gran parte del centro, con solo qualche isolato rovescio tra Lazio e Abruzzo, instabilità invece al sud con rovesci a carattere temporalesco, ventilazione che a tratti sarà sostenuta sulle coste occidentali della Sardegna e localmente lungo il versante Adriatico, clima caldo ma senza eccessi con massime tra i 28 e i 32 gradi. Tutti i dettagli in merito alla vostra località sull'app di Trevi Meteo.